Il Servizio Civile Regionale è un'opportunità aperta a tutti i giovani, le 18 e i 30 anni, italiani e stranieri se residenti in Regione. Per saperne di più, cerca sul sito della Regione Toscana dove puoi trovare le informazioni sul bando del Servizio Civile, i modi, i tempi e tutto il resto. Fai come noi, vai di corsa su www.regione.toscana.it